Ci troviamo al santuario di Santa Maria Ausiliatrice presso i Salesiani San Lorenzo a Novara e adesso vi farò ascoltare le 5 campane, in quanto il campanile è stato restaurato qualche anno fa adesso è di un nuovo colore, di un colore tendente al giallo scuro arancione quindi ci tengo a farvi gustare questa ripresa anche con il campanile sistemato A presto! 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 A presto!